L'arte incontra la musica. Aperta dal 7 dicembre la mostra Fluid Art di Laura Sorrentino, presso la sede dell'Associazione Amici della Musica, in primo vico a Bolitomonte, attore del Greco. L'evento ha il doppio scopo di dare visibilità alle opere della giovane artista napoletana e di finanziare le attività dell'Associazione sul territorio. L'arte di Laura unisce la sperimentazione tecnica al rispetto dell'ambiente. Come è nata questa iniziativa? Amici della Musica sta raccogliendo dei fondi per potersi espandere e dare anche vita al quartiere per provare a rendere in questa città un tono musicale, come si può dire. Io collaboro con loro mettendo in scena questa mostra con dei miei quadri per poterli sostenere e aiutare in questa loro avventura. Quindi parlando invece delle tue opere vere e proprie, qual è la loro peculiarità? La peculiarità delle mie opere è che io le faccio in carta riciclata, lavoro la carta riciclata, la autoproduco e faccio la fluid art sopra che è una tecnica particolare fluida. Come viene trasformata questa carta per renderla una tela? Io lavoro la carta con il classico metodo di ribattitura su telaio, quindi faccio la procedura di macerazione della carta e poi la lavoro con la cellulosa e la ribatto su dei telai, poi asciugano, è un processo un po' complesso. Perché scegliere questo metodo? Perché aiuta l'ambiente, sostiene e rende il tutto anche più bello sia visivamente che anche a contatto con la tela, tutto più tattile, tutto più materico. Non parliamo solo di dipinti ma anche di sculture con questo metodo. Sì, io faccio anche sculture in carta riciclata, non sono in carta pesta, sono completamente in carta riciclata dove io creo una sorta di pastella. È una mistura fatta di carta riciclata e vari materiali sempre ecosostenibili per permettermi di scolpire come se fosse argilla o creta la scultura. In conclusione, vogliamo dare un messaggio ai torresi che verranno a vedere questa mostra, magari anche un invito? Venire a vedere questa mostra è non solo un modo per sostenere questa associazione che secondo me merita tanto, ma anche per poter guardare la carta e poter capire quanto questo sia importante sia per il pianeta l'idea del riciclo e di riutilizzare quello che sia, che la carta è un materiale che abbiamo tutti nelle nostre case, quindi provare a rendere tutto molto più pulito e ecosostenibile.